Ciao splendore, bentornato qui sul mio canale. Questo è un video che mi è stato richiesto da una ragazza che si chiama Claudia Miano, a cui mando un bacio. L'idea mi è piaciuta tantissimo e quindi ho pensato di riproporla. Mi ha chiesto di fare un video in cui auguro buona fortuna, accompagnato da degli hands movements, da del tongue clicking e del brushing camera, ma anche del brushing microfono. Infatti è tornato il mio peluscioso che era da tantissimo, che non lo usavo. Eccolo qua di nuovo tra noi. In effetti un po' mi era mancato. Mi scuso semplicemente per le mie unghie che non sono proprio ordinatissime, spero che non ci facciate più di tanto caso, che non si noti molto. Iniziamo allora. Tesoro, sono qui per augurarti buona fortuna. Buona, 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 buona fortuna. Vedrai che andrà tutto tutto, 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 bene. Ne sono sicura, non ho dubbi. Buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. Vedrai che tutto andrà per il meglio. E avrai tanta, 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 tanta fortuna. Ne sono sicura. Questo è il mio augurio più sincero. Te lo auguro con tutto il cuore di avere tanta, tanta, tanta fortuna. Te la meriti, ti meriti. Sono sicura che ce la farai. Non ho dubbi. Non ho dubbi. Una, 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 una. Rilassati. Perché andrà tutto bene. Sono sicura che avrai tutta la fortuna di questo mondo. Già lo sento. Sento che... Guarda. E sì. A vederti. Ti ne ho trasmesso già tanta. Sei molto, 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 molto più fortunata di prima. Sta funzionando, eh. Ora riprendiamo un po' il nostro pennello. Perché... Tac. Tac. Con i suoi... Con i suoi movimenti. Ogni volta che ti accarezzerà, ti regalerà tanta, tanta, tanta fortuna. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Sette. tanta, tanta, tanta fortuna buona fortuna buona fortuna buona fortuna Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sarà una giornata molto fortunata quella di domani Fortunata, te lo auguro di cuore Tanta, 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 fortuna Tanta fortuna, te la sto mandando in questo momento La percepisci? Tutta la fortuna, tutta, tutta la fortuna che ti sto inviando Che ti sto inviando con le mie mani Tanta, tanta, tanta Tutta a te Adesso Non pensare più a niente, riposati Pensa positivo E vedrai che domani Ma già da adesso La fortuna È dalla tua parte Andrà tutto bene, qualsiasi cosa Ricordati che ti voglio bene E mi raccomando poi fammi sapere se Tutto è andato per il meglio Ci tengo Buon riposo Recupera le energie Ti voglio bello carico Buonanotte Buon hano Buon hano Grazie a tutti.